Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Air e eccoci qui per il nome di Crusader Kings 3 qui con il suo caro Jan Halfdan pronto a continuare la razzia odienna e allora vediamo un po' la situazione europea, siamo nel 173, 4 anni sono passati nel nostro insinamento in questo nuovo regno e devo che già la West Francia e i regni sono espansi un po' sembrano rischi a vedere l'Italia, siamo un po' più debole Venezia è sempre indipendente, qua c'è il papato i bizantini sono ancora distanti, ma entro questo, qui gli arabi come si stanno anche espandendo eh dalla Tunisia, in Sicilia e anche a Napoli vabbè, la Bavaria si è un po' schiacciata tra l'est Francia che stiamo a mangiare tutta, anche se già sta male, poverino, denunciata addirittura qual è il crimine affatto? non si capisce comunque noi abbiamo fatto già la prima collata nel scorso episodio ossia, come sono la Nortambria e poi dare al nostro figlio vorrei tornare indietro, ma mai quello che è fatto è fatto continuiamo così e allora c'è un modo per poter prenderci la Nortambria senza spaventare di sangue con il nostro figlio e quello sarebbe, fondare un regno perché noi siamo un Ducato appunto alla pari e per questo si è diviso ma se fondiamo un regno potremmo magari basalizzarlo, visto che siamo feudali anche noi non siamo un feudale, penso, tipico quindi cosa dovremmo fare? O negozio di Denelow che pensi che era un nuovo regno appunto qui in Gran Bretagna che fu anche fatto da Jorvik oppure fondano un regno, ma sì, qua ci costa un po' di più sia come Tempo, perché ci vuole questo territorio oltre a Ducati nemmeno questo solo uno nemmeno due in teoria ma ci costa anche Fed, probabilmente se è il Luz, insomma è un po' una rottura quindi io direi di fare di fondare Denelow partiamo ragazzi abbiamo seguito Ducati alleanze possiamo fare facciamola anche già pensato di essere già alleato con Cubine lasciamo queste parole e allora possiamo fare guerra all'est Anglia ad Alba anche se fosse Alba è un po' più forte eh sono inferiore ma lasciamo in stale io devo anche fare un po' di eserci quindi aspetta un attimo vediamo che posso fare guerra Jarl non vorrei siamo anche alleati vediamo un po' inopportuno diciamo che c'è qui dammi 10, ok eh la Merse io come stai la Merse i Khin ci costa mille dico mille di questi di diciamo di prestigio li abbiamo perché un po' fa ah è sto una volta nella vita eh non stai mai che alla fine West penso non ci faremo ora è molto forte il West col Ducati viene solo da parte quindi lascia di stare con il West scusate Ultrac sta qui Ulster non ci interessa il West se non c'è no per puntare appunto questo è l'impero in cui si sta e c'è il regno ci invadiamo per creare il regno che è il regno di Inghilterra e quindi tutta la Merse dovrebbe essere già nostra già in un solo balcone noi sono 1.400 e hanno però penso non hanno alleanze con il West grande Alfred e allora avremo i nostri eserciti al massimo perché ci voglio poco un po' di mesetti proviamo averlo proviamo attaccare e allora mio figlio ha un maschio diri che intelligente complimenti la nostra mia figlia lui cosa è poeta oh che è anche amato da Yes True mi ha visto tutto questo in effetti lo faccio anche diciamo in Orrida faccio anche delle battaglie a son di rime per riconquistare diciamo per essere migliori vedrai che anche migliori lì mi occupo di essere anche un nostro physician da queste parti e allora un physician non possiamo crearlo però qui lei è scriva con scienziosa non lo so lasciamo sta per ora neanche i nostri eserciti non sono messi 7 campioni ok tutti i eserciti non è 7 per lui poi da qua 10 10 poi ci può andare bene dov'è che ci vuole male scusami perché mi odi che altro angry sono arrabbiato anzi perché l'ho tonto come però dai su ti voglio bene ti faccio anche un regalino magari ti trovo una sposa tu hai 32 anni una bella introdotte nel norso guarda che bella che compassionevole timida lei è crema e lasciano la stare lui ci chiama nel senso della guerra il carro di senza rossa accettiamo allora ti trovo una bella moglie ti do lei che è 28 anni che è più bella dai guarda che bella donna vediamo un po' se è felice così sei felice? si è felice? ti play? eccellente per meno 100 allora loro sono messi non sono 1.800 quindi sono 5.200 oh insieme lo posso facciare tranquillamente l'alba sarà più indebolita ma che può acquistare solo con quelle morme ostre ah solo questo con la contea benissimo benissimo posso non fare alleanze con con altri vichinghi che sono tutte a fare guerra qui possiamo fare non città più di tanto moment speed si invece essere veloci per averci molto utile altri 100 ducati siamo a 2008 ancora ma devi fare una guerra dai lo sono anche mille e quattro il doppio invadiamo il kingdom ah deve essere uomo esaltato ah che scato non sto posso fare per avere un po' più di prestigio eh os fecal hunt facciamo una caccia ci basta lo stress ci dà anche un po' di prestigio poi a questo punto c'è anche guerra per il nostro cugino nostro fratello tanto qua c'è le stesse qua c'è la presa ogni prestigio e lui perde per il nostro ufficio ebbene dai ok noi con i nostri uomini ci muoviamo hanno tutti il tribù vedo ok va bene ok prestigio lo abbiamo fatto si mi viene un poco però un basso devo fare guerre mi chiedo se possiamo anche razzare io un po' se c'è questa possibilità vieni qui e allora si 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 può razzare e io manderei magari un poco verso la Francia mi offre una concubina chi è mio figlio va mamma mia è finito e vabbè è finito e se che non avrei quella donna con noi mi sto inquistando ok qui sta ok la culto sta convertendo anche la regione 11 mesi e 5 anni molto bene il ferro è sul su di lui sul nostro cancelliere star scheme qua sono conquistando una grande solo 3 di loot grazie solo 3 di loot andiamo a fare guerra dal capitale no lì vediamo un po' di uomini però si rai vediamo ci vediamo magari lì ci sono un po' più di soldi vediamo solo un centino di uomini e sono solo 15 vabbè magari c'è qualcuno che possiamo ricattare chi lo sa allora ho un posto lui è bravo in niente però è più bravo in stewardship sinceramente è in romanzia no è d'altro è buono in marziale e in trigo ma se in trigo sono i migliori che ci ho quindi ho l'identa stewardship e lo posso fare il mio son il mio passaggio diventa lui allora lui è ragnar afdansson altri camersi pure scarsi scusami adesso fucca 6 ragnarsson già c'è lui che già c'è di mezzo un po' con diciamo la commissione della cultura qui abbiamo conquistato andiamo a fare quella loro va andiamo a simulare qualcuno con noi che ci dà questo più prestigio io qui dicevo di no dal major o almeno dicevo di no non un po' se miglioriamo eccellente perfetto il minor migliora già di 10 uh la regina ci dà 100 e paga 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 lui che è mio figlio mio figlio ancora fa figlie e anche lei intelligente sono felice per loro so be hit e allora io sono dove fare una cosa ok abbiamo tornato nel nostro territorio torniamoci per dare 100 da sola regina tantissimi soldi adesso lascio magari più 4 per per come dire provare a a far un po' più solo di prestigio subito perché davvero non posso fare davvero poca roba pochissima roba e allora si inizia a razziare e risorse più ricche dove possiamo trovarli house carter e un po' c'è qui terreno con development guarda qui siamo un po' tutti rossi ma qui andiamo in francia come ho detto ok la francia quanti come c'ha 6.000 stiamo attenti la britannia quanti ne ha 1.400 stiamo attenti ma un'inculsione la francia a bayou si può fare si può fare anche la guerra e bayou quanto perdiamo i soldi niente perché andiamo a razziare che bello ragazzi razziamo tutto si mi piace poi task finished come detto anche a jorvik la nostra capitale non siamo qui pronte facciamo 4 penso avremo meno dei limiti diciamo di si 4.239 ok siamo anche molto veloci qua c'è 7 posso fare una cosa c'è avventura pillage penso per razziare c'è da prowess navas preview vendere 100 prestigio nei battagli questo lo farei del prestigio più del sangue l'ora diplomatico qua ci migliora prowess ignite effect fermiamoci un attimo così ha meno costi per meno costi per caccia e fest più per minion non mi interessa omniu reputation natural dread e dread again eludizione non è adesso quello lì questo di qua sono dei viching ci devono essere i veri viching abbiamo procurato una nuova perk andiamo su questo di qua che ci migliora un po' di cose nella guerriglia tu qua 9 soldi ci facciamo subito quindi stanzione anche non solo città anche diciamo le varie diciamo le chiese qui c'è una chiesa interessante continuiamo siamo già 22 oh 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 arrivano 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 i francesi sono arrabbiati devi scappare ragazzi magari andiamo in britannia battere in britannia va che è meglio spero che non ci stai qua pure qui dai siamo via siamo via siamo via sti territori che c'hai con noi vogliono i loro soldi ovviamente ci hanno preso e penso che prendiamo non solo i soldi ma anche il loot mille uomini e infatti attraverso loot e anche metà e più uomini abbiamo più abbiamo possibilità di fare soldi non ti faccio una cosa loro sono qui bloccati proviamo a razzere un po' di qui e poi tornare subito a scappare allora come ci seguono i britanni ci hanno conosci ci saranno dei vice mandati dai su non rompere scatole solo mille uomini e vabbè arrivano altri viki di britanni e allora l'airdom di not reigning per essere il mio figlio ne godomale siete il mio figlio no ci dà questa vita di avere più dread e più marziali e punti marziali qua punti marziali ma esponiamo banditi per aver esponito oh soldi io prendo soldi ma dentro meccanato generoso facciamo questo qui li stanno ammazzando anche se non si vede però qua non me lo fanno valere il numero loro maledetti e vabbè e dove andiamo ora siamo in mezzo da lì sono 100 uomini direi di questo punto avevo solo preso tanti uomini non pensavo che mi attaccassero subito i francesi non pensavo e niente e allora tu sei 100 puoi fare qualcosa allora proviamo un po' a fare un po' di soldi magari qui quasi a 7 a lione poi scappiamo magari qui per il mare ci andiamo via uh perdiamo un po' di una ne sarebbe accorte perché what you just call my daughter you vulpeteri quindi che succede cioè sono sfissato la tradendo maledetto e vabbè arrivano già qui però non penso siano più fatti di noi dai siamo quasi pari e sono vichingo scusami eh mi ha perso un braccio non ti occupare avere la pensione di invalidità continuiamo il raid siamo già a 400 continuiamo a scappare e vabbè ne arrivano altri facciamo battaglia ok però che scatole ma fatevi fatti i vostri scusate qui mi ha perso un po' di soldi lo stiamo razzendo davvero male però stiamo razzendo ragazzi io spero che non è rimasto i fatti un periè e quattori ma non è rimasto siamo già 27 addirittura possiamo andare via che abbiamo pochi limiti perché meno soldi abbiamo meno soldi possiamo incassare ovviamente e torniamo nel nostro bel territorio qui a Jorvik spero tutto mi amare si bravo pochi soldini 24 24 una schifezza ma si potremmo rifare di tornare i nostri forse perché no c'è un altro l'avevo appena fatto un'amicizia con quello è già cambiato è già cambiato ma spero che sia anche buono almeno 15 almeno questo è buono torniamo indietro 200 uomini ci vorrebbe il po' di tempo per eh beh disbandiamo tutto va capito quando sei al mese mettiamo un bel po' di tempo guardiamo che la figlia fa figlie figlie e figlie però sono tutti buoni almeno ma il mio figliolo che cavolo sta a fare il mio erede c'ha due figli figlie maschia maschile ah c'ha un figlio c'ha che però è illegittimo caro padre ok forse hanno fatto pace ok ok hanno fatto pace almeno questo è un tratto marziale vediamo se è stato che poi cambiano un poco va no grazie guarda quale mano sta a essere il nostro figlio una mano extra abbiamo messo l'am Uba discover we have a lotto abbiamo molto in comune chi è questo Uba è il nostro fratello si siamo fratelli abbiamo tutto in comune we should become good friends we must keep this relationship professional no siamo amici credo che un po' di studio in più non ci fa niente ma più alleanze più fedeltà questo vuol dire anche essere cioè più amici siamo più fedeli e allora io sono crescendo ok se non sei mila posso andare in Francia a fargli male attenzione you pay greeting you have done io sono Ragnar a slay my new l'ha ferito in uno sconto disonesto non so non sei disonesto ci diamo oh io diamo soldi o penso che puniamo suo figlio pubblicamente ah bravo Ragnar bravissimo figlio mio gli hai fatto bene a fargli male a quel cretino questo è incognito your champion tonight I strip myself I have a symbol seronimo my champion I demand alternative strategy hmm ci diamo allora ho diventato innovativi strategi penso si lo ascoltiamo si fa vedere battle roll ma ci dà più marziale non mi convince questo sinceramente seven injured lo spieghiamo dai allora soldi ringrati to thank you my lord will never no ok quindi ho detto strategia qui ci sblocca un troppo passare se discutiamo mentre si qua ci dà strategia innovativa che ci fa perdere appunto facciamo si qua va facciamo si qua hit and run corri e colpisci cerchiamo ancora di questo mai detto percorso sempre quello lì accettiamo mamma mia quanto sei rompiscato il fratello mio fatelo dire va da fratello a fratello un'alleanza com'è questo il qui ah un'altra alleanza ci sta task finisce un'altra guerra eh vabbè di montigo continuiamo un po' guarda questa di montigo e a me non si vuole espandere ci sta annanza almeno questo la vita è che ha presto teatro lo sta perdendo eh milleotto milleotto possiamo fargli male se abbiamo un buon esercito eh task finisce qual è ho tu finito di far tutto lavoro continua a convertire qua oh aspetta ah ha star tu fermi e c'è l'abbiamo solo con lui allora hai to ever fittings there things to say about him c'è cosa l'abbia lui what the public should contribute help faccio quale set ma spendo un po' di prestigio e nostra famiglia perde 12 per 5 milione scorn queste cose non sia la peggiore c'è il dread ma meno 20 petano allora qua c'è la mia possibilità di avere più prestigio e slendermi quindi si arrende a me vediamo questo eh mi ha rifiutato mi ha detto no e qui c'è uh leviatano intanto hanno visto i profanieri c'è intucati però rischiamo di essere feriti proviamoci si abbiamo i soldi e ogni tanto funziona ogni tanto e a jorvik voglio fare una cosa bellissima ragazza jorvik un grande tempio costruiamolo no perché ah che c'è la cultura cos'è crop innovation devo trovare devo trovare questa crop innovation e fammi le quali scusami io sono a capo c'è lui ma è che è questo idiota al re di svezia e questo è il re di svezia che è andato anche a vincere e vabbè e vabbè ci sta quindi crop innovation tu lo stai facendo caso sberi sto facendo questo cretino e non posso fare i grandi tempi ma inizio a lui ma inizio a lui va bene abbiamo tanti soldi possiamo magari spendere per fare costruire qualcosa all'itz costruire anche qui delle mura a jorvik possiamo costruire delle barracks anche in it no c'è un po' di farm per i po' di soldi sono sconfitto ah c'è un'altra guerra vero mi sono ticato e qui a pochiton che è tribale però un cazzo da qui va bene costruire le mura ok il grande blot questo ci da costruire il prestigio ma ci darebbe penso andiamo un po' che ci da ci da decidi di scala fessi sede what ho solo per sacrificare poppino catropino ok migliora un po' tutto allora people kept the fate we are not lost us mi prendiamo 50 35 100 mmm allora every lord come is the yarlo in civil invite quindi invitiamo tutti non mi vediamo sul popolo per ora non mi vediamo il popolo che c'è il più vicino possibile penso sia giusto così questo ci viene in guerra a sbezza solo se va a quel paese perché lui vuole fare le mie regioni che voglio io non vuole fare che voglio io quindi vattene a quel paese e allora appunto mi voglio fare una guerra meno veloce una guerra che ci dia meno qualcosa con la messia questi qua non possiamo fare ma la contea si e c'è il lancaster almeno facciamo questo va declare war una piccola guerra con la messia ci si stavamo 1200 vero non siamo tanti che cosa ho fatto allora io ho il nostro alleato almeno e jorvik si adesso questo sono 1400 loro ivar jorvik chiamato i nostri alleati ci costa un po' prestigio ma va bene abbiamo tanto prestigio conquistiamo ok siamo 1200 vediamo un po' se vengono stelle ate non tantissimo contenere i uomini 300 adesso sono 1300 uomini per stare quelli mettiamo un bel 4 vediamo un po' che succede allora un piccolo sacrificio una pietra va a biorno fa per lui ah è morto fratello dispiace sopra una piccola pietra una grande pietra per impressionare tir ci sta oh un orale stai in ship diciamoci qua dai morto fratello prendiamoci 100 dai most oh my god and prestige has been recono ah ho preso sia oro e che prestigio sembrerebbe andiamoci qui con il suo figlio una servina di lui questo è un bel 24 io 27 scusa uno grande era ah jarl pigliamoli guarda come scappa che arriva tutti i nostri alleati qui lui è penso sia solo infatti siamo 20.000 io ho fatto 100 grazie a funerare allora conquistiamo cos'è lo chester andiamo a chester chi è questi qua che è nel territorio alleato chi sei tu scusami non si capisce ok il nostro sono 20 di loot qui dobbiamo fare un ransom lo facciamo lui sta vedendo la guerra com'è possibile 3000 sono 2008 loro dovrebbero farci dai su christ opinion dai ci serve non so credo che sia buono con noi lui sta scappando non so dove allora attaccare la capitale ma non so quanto convenga perché qui vedi da loro attaccare la mia capitale stanno 18 mesi bisogna andare a prendere distruggerli e poi tornare via sono neutrali sono dei raid va bene 23 diciamo qui dai su per il po' di soldi sono e siamo 800 per due uomini per così è vista d'occhio torniamo indietro andiamo a fargli la bua a loro dai su non ci stai arrivano altri soldi di mercia sono solo 4 lo sta scappando lo prendiamo da qui dai va lo che gli dà le botte in testa guarda come gli dà le botte in testa la vittoria è nostra migliora anche la fede perfetto e ne abbiamo appunto un'altra baronina scusami andiamo a derby che ci manca un po' di soldini ci raggi a 7 ci dà è sempre nostro lui stiamo a 9 mesi ok lui sta girando nel nostro capitale per detempo il frattempo noi qui stiamo qui ecco arrivano i nostri alleati che gli fanno la buona di nuovo e loro prendono il altro yad il nostro figlio pure furbetto era e ci sta ci sta vuole fare soldi però posso fare soldi tu fai soldi maledetto godwin 950 facciamo un bel po' di soldini fa la guerra e perde grandissimo grandissimo 80% di vittoria morta percanziale facciamo rice più veloce e anche più suppli perfetto più penso più cibo ok ci stanno 18 giorni perdiamo uomini ma proviamoci ci prendiamo la capitale ci dà un bel po' il gesto di loot e poi anche magari qualche ostaggio dove sta il re vittoria grande lui sta qui se vediamo a lui è un grande colpo è un grandissimo sei mesi c'è un rally contro di noi oh i suoi man che abbiamo fare no 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 che sta che cavolo stai a fa' stati qui che scatole e ricominciamo sette mesi maledetto questo man 5% ora dobbiamo fare il loot cosa è migliorando è pure lui che è questo scusami è proprio fu vassal questo è non lo sapevo adesso continuiamo a conquistare un paio di mesi mettiamo a 5 si avete la vita ma io voglio fare i soldi vediamo qualche ostaggio preso viiii questa è la regina 50 è un force demand ok so be hit il chest io ho già una città in più che non posso avere e vuoi darla a quel che sta con mio figlio scusami penso se lo metti questo uomo antimatilineare grande title gli diamo questa cittadina il chester e lui è la più felice perfetto e allora siamo a 800 disbandiamo tutto andiamo in play questa è una runa lo farei per 50 allora rock 2 in a this is subject possiamo fare o contro il re stupido o you want me to pay how much you giant paint build mi convince mi convince mi convince e ti ho fatto la runa scusami ti ho fatto ah ok sui dovevo fare allora north riding would be a good place east reading o west reading allora dove lo mettiamo lì a nord che sono i nostri territori l o not reading no qua è not reading scusami east reading o west reading non so not reading andiamo a nord va nostra capitale ci sta ci sta garantita la nostra capitale gli uomini stanno crescendo vediamo un'un'altra your system no ma dai è stata con mio fratello è vero che sono un po' vecchio quindi un po' mi diverti però c'è mia moglie qui non vorrei oggi quanto è vecchia è anche vendicativa attenzione è una serp ma si pigliamocela dai un altro concubiano che possiamo fare dei figli ci divertiamo e basta attenzione ci chiede aiuto i have received ammessi from il piccore il piccore di mese il di mese diciamo così it claim il suo figlio ma insomma il loro decreti supporti un plot against me c'è un plot contro di me di lui come osi un insulti accusation ok yes infine ok quindi è stato arrabbiato cosa ci dà yes what's saga say saga in diplomacy you gain da 5 facciamo sì qua scusami il vigore tu diventa qui suppers ci dà più suppers ok lui è felice vediamo un po' il nostro concilio come lavora tu il controllo vai qui accesso ti servirà tu la cultura a west reading iniziano già ad essere un po' più presenti diciamo qua mi deve un 2 in più in arebbe però e anche più soldi però riesco a essere difeso anche se lui è 23 a 9 può andare bene dai va bene così allora lei sarà il nostro manage domain posso creare lui che l'ancassa e lo creiamo e lo otteniamo noi ovviamente e il suo metodo se vedete non capisco cioè lui si piglia lui diventa Erlon di no l'opera di Jorvik ok la capitale e west reading lui si piglia sempre una cittadina c'è tutto il ducato di Lancaster ma c'è un ducato non è un po' le scatole va ti riesci a dare altrimenti dovrei lui solo che se do lui il ducato poi non sei indipendente confedera partition partition allora si qua non posso fare che manda eter e ruler va bene non so fare niente e ragazzi però direi che per questo finire qui vi sto odio ci siamo espansi un po' abbiamo fatto un proprio vestigio qualche razzina da male ma nemmeno aspettare che migliorino i nostri soldati più soldati avremo e sono già 6.300 più potremmo fare tanto confusione tanto cacciara di luce web e mi rapporto con questo uomo Andres per sicurezza e ok lui vuole un posto e dice intrigo e non mi serve a niente you will serve me well right hand che è questo grammy wing è il mio campione vai marsha ma io l'estern che ne ha questo problema no lui sarà con me dai su ci metterò con noi ho un braccio destro posso servirci poi c'è di bolton lui che è fibro è debole e non ha niente a parte non rivoluzione ma non ha niente di che però voglio mettere lui di prima un po' chi può essere no c'è mio assallo mettiamo lui il nostro diciamo genero dai ci sta a poi 18 anzi a diciamo è intrigo lui mi conto è intrigo 9 9 e 9 il Mario invece come 15 8 12 magari cambiamo questo di qua cambiamo perché voglio avere un po' più soldi sinceramente tu vuoi per fare il tuo lavoro domestic a fare i miei rapporti dentro lui vuole essere niente lui associo in trigo ho un altro tratto marziale ok divento stratega e però ora vorrei cambiare vorrei essere invece vorrei essere più diplomatico per avere più prestigio direi questo vuole essere buono e cercando di essere magari gli agustici c'era così più prestigio magari possiamo migliorare un poco un altro grande blotto no grazie allora diplomazia c'era against allora jugain 20 opinion su di lui ma poca possibilità di fare opinion buona e fede aveva solo prestigio e lui schiederà facciamo questo di qua va che viene lo stesso di quello di sopra che si beneficie e un po' di fede non fa mai male va bene ok ragazzi dicono che posso fare qui il episodio di oggi ho fatto tantissime cose ho visto la spazza che ha preso il nostro re mi ha fatto un grande runa per lui ho preso soldi mi hanno solo fatti lui mi ha detto il mio amico ok mi ha dato anche il mio amico poi la messa ha preso un territorio un'ottambia ha preso indipendente oh è in prigione uuuu l'ha messo in prigione non ci credo la notambia è in guerra con chi si è in guerra con l'alba per cosa vuole spandisi il nostro figlio ah 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 oppure no chi è il capo da guerra è sempre lui ah ma c'è un altro sembra proprio uguale nostro fratello qui non c'è oh è morto è morto è morto il presenza ossa no mi dispiace siamo morti tutti i nostri fratelli siamo morti in pratica se noi siamo vivi è il fallo più piccolo che è il re di dimarca ma io sono tutti morti è il re di dimarca il re di sbezzo e io non sono niente peccato un ottambria a mio figlio posso fare una cosa claim title dove il per cento rimane declare war your claim ok l'abbiamo però siamo attenti che lui è tra sei era in guerra vediamo un po' ragazzi vediamo il prossimo episodio cosa fare ma intanto ci siete stati qui io vi do lascio un like a commentare e di la vostra se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attive la campanellina c'è notifica i video che usciranno e vi ricordo anche se vi rimane sul canale viola lo fai live e sovra i social come facebook e instagram così pensate di più sul lavoro detto questo ragazzi al prossimo episodio non posso metterli passo a chiudo ciao ciao Grazie per la visione!